29 settembre 2023, Gesù a Jennifer, siamo nel periodo più grave per l'umanità, Satana vi attira con la paura. Anche il messaggio di Jennifer, una veggente americana, come quello di molti altri veggenti, parla di un presente e di un futuro in cui l'umanità è immersa e che conferma la fase della tribolazione. Non potrebbe essere altrimenti con tante catastrofi nel mondo, tanti terremoti, calamità varie e per non parlare delle moltissime guerre in atto. Si parla, in questo messaggio arrivato da Gesù, di un grave periodo in cui il nemico, lo stesso che ha tentato il Cristo nel giardino del Gezzemani, attraverso il potere della paura, ci sta catturando tutti. Troppi peccati nel mondo che dovremmo evitare. Leggiamo il messaggio. Figlio mio, avverto i miei figli che questo è un periodo grave per l'umanità. Avverto i miei figli di non arrendersi allo stesso nemico che mi ha tentato nel giardino del Gezzemani. Figlio miei, la paura è il mezzo più grande con cui Satana vi attira. Ha sguinzagliato una moltitudine di suoi compagni per raccogliere quante più anime possibili. Si è infiltrato tra coloro che sono inserite nella mia chiesa e cercano di alterarne gli insegnamenti. Non temete, figli miei, non arrendetevi. Non credete alle menzogne, perché ciò che è scritto deve essere è la verità. È tempo, figli miei, di invocare lo Spirito Santo affinché vi guidi. Chiedete il dono della saggezza, della conoscenza, della comprensione per navigare nell'ora in cui state vivendo. Non c'è pace né gioia quando l'umanità vive nel peccato. Oggi molti mancano di pudore e i peccati della carne dilagano. Troppi accettano atti peccaminosi perché non vogliono offendere il prossimo. Figlioli, non difendete coloro che offendono gravemente me e i miei comandamenti. È un tempo di preghiera e di digiuno. È giunta l'ora in cui molti diranno. Dov'è mio fratello? Dov'è mia sorella? In un batter d'occhio l'umanità può cambiare. I giorni di lutto sono sul mondo. Chiedo ai miei figli di pregare affinché la mano giusta di mio padre sia trattenuta. Chiedo ai miei figli di pregare affinché il cuor di mia madre trionfi presto. Dico ai miei figli di consegnare a me tutto ciò che consuma i vostri cuori feriti, perché io sono Gesù. Questo mondo sta passando e i miei figli hanno bisogno di risvegliarsi al mondo che li circonda. Venite figli miei, venite a me e attraverso una fiducia completa e totale comincerete a sentirvi nutriti, comincerete a sentire la pace perché la mia presenza opererà in voi e attraverso di voi. Ora andate avanti perché io sono Gesù e siate in pace perché la mia misericordia e la mia giustizia prevarranno.